Deve lasciare l'Accademia Bianchi. Questa sfida non è andata bene, sono stata eliminata, però posso dire comunque di essere contenta di essere arrivata fino qui, di aver sfidato una persona competente, sono contenta di tutti i consigli che mi ha dato lo chef, sono contenta e sono sicura che oggi credo di più in me rispetto a ieri e anche se sono uscita lo sto facendo a testa alta perché non ho niente da guardarmi dietro di questi giorni da rimpiangere, assolutamente. Il nuovo concorrente mi sembra un ragazzo per bene, un ragazzo forte, valoroso e spero che non gli vada bene, spero. La prova dove ho avuto più difficoltà è quella di manualità, quel tipo di pezzo non è assolutamente facile, no non l'avevo mai fatto, è stata la prima volta e sono sicura che se ne avrò l'occasione ci riproverò e sono sicura che ci riuscirò. Sono cresciuta a livello umano, a livello di pratica e sono comunque contenta di tutto quello che sia successo, torno a casa migliorata, più cresciuta. Grazie. Grazie a tutti.